Signore e signori, per motivi di sicurezza vi invitiamo ad allaggiare le cinture, a chiudere il tavolino, a porre lo schienale della poltrona in posizione verticale, a mantenere i braccioli abbassati e le perline dei finestrini aperte. Da questo momento tutti i dispositivi elettronici devono essere impostati in modalità d'uso aereo. I computer portatili devono essere spenti e correttamente riposti. Vi preghiamo inoltre di selezionare ora la modalità silenzioso sul vostro telefono e di non utilizzare auricolari collegati a dispositivi personali durante le fasi di ruolaggio e decollo. Vi invitiamo inoltre a chiedere immediatamente il nostro intervento nel caso in cui un dispositivo elettronico si surriscalvi, produca fumo o cadendo si incastri all'interno della poltrona. Vi ricordiamo che è vietato fumare e non è consentito l'uso di sigarette elettroniche. Vi auguriamo una piacevole permanenza a bordo. Grazie. 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 Grazie a bordo ogni effetto personale e allontanatevi dall'aeromobile. This aircraft is equipped with four emergency exits located in the forward and rear zone. Please note the one nearest to your seat. In case of emergency evacuation, an illuminated escape path will help you to reach the exits. Leave all your belongings behind and move away from the aircraft. In caso di depressurizzazione, l'alloggiamento che contiene le maschere per l'ossigeno si aprirà automaticamente. Prendete una maschera e attivatela tirando energicamente verso di voi. Portatela sul viso coprendo naso e bocca e respirate normalmente. Solo dopo averla indossata aiutate coloro che hanno bisogno della vostra assistenza. La maschera funziona anche se il sacchetto non si gonfia. In case of loss of cabin pressure, an oxygen mask will automatically drop from the compartment above your seat. Pull the mask down firmly, place it over your nose and mouth, and breathe normally. Put your own mask on before helping others. The mask works even if the plastic bag does not inflate. Il salvagente si trova nella tasca sotto la vostra poltrona. Dopo aver aperto il contenitore, indossate il salvagente come vi stanno mostrando gli assistenti di volo. Agganciate le cinghie sul davanti e tirate le estremità in modo che aderisca bene. Gonfiate il salvagente solo immediatamente prima di abbandonare l'aereo tirando le maniglie rosse. Se fosse necessario, soffiate nei tubi di gomma. La lifejacket è in la pocket under la sua seat. Open la container e pute la jacket on, come la cabin attendenti sono ora dimostrata. Fasten la clipse in fronte, and pull the straps to adjust the jacket to your size. Inflate the jacket by pulling the red handles, just before leaving the aircraft. If necessary, the air supply can be topped up by blowing into the rubber tubes. For further information, please check the safety instruction card in the seat pocket in front of you. Thank you for your attention. S. Per queste informazioni vi raccomandiamo di prendere visione delle norme di sicurezza, riportate sul cartoncino posto nella tasca della poltrona di fronte a voi. Grazie per l'attenzione. Grazie per la visione. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti